Il consigliere di minoranza Agostino Abate ha chiesto al segretario generale del comune di Agropoli di intervenire sull'inadempienza istituzionale in merito alla mancata convocazione della conferenza dei capigruppo. Il consigliere denuncia all'attenzione dello stesso segretario la grave situazione politica istituzionale creatasi per la già convocata riunione consigliare del 29 luglio 2016 e che da tempo pervade la politica Abate sottolinea che è sacrosanto diritto dei consiglieri comunali rappresentati dal relativo capogruppo pretendere la convocazione della conferenza dei capigruppo per definire la programmazione del consiglio dato che lo statuto del comune di Agropoli istituzionalizza il diritto dei consiglieri comunali ad ottenere ogni informazione sulle questioni sottoposte all'organo consigliare attraverso la conferenza dei capigruppo e che tale conferenza concorre a definire la programmazione per il proficuo andamento dell'attività dello stesso consiglio. L'organo consultivo che consegue il diritto dei consiglieri deve essere obbligatoriamente convocato e consultato prima di definire ogni programmazione del consiglio comunale.